Nella prossima edizione dei fatti vostri Laura Forgia non ci sarà, è la stessa sciogherla a confermare la notizia in un'intervista rilasciata a tv blog nella quale spiega i motivi di tale decisione e svela anche i suoi progetti futuri. L'esperienza nel programma mattutino di Rai 2 al fianco di Giancarlo Magalli è stata meravigliosa, dice la bella conduttrice 35enne, ma ora è tempo di voltare pagina per realizzare le sue passioni. Dopo un'attenta valutazione, spiega, ho deciso di non rifare la prossima edizione. Sono curioso, ho sempre voglia di sperimentare e sento di non precludermi altre strade. Mi trasferirò all'estero continua, probabilmente Londra, dove mi occuperò di campagne pubblicitarie che riguardano brand di moda importanti e serie televisive. Nessun problema con il cast della trasmissione, quindi con Viale Mazzini, non lascio la televisione italiana, i rapporti con la Rai, tiene a precisare Laura, sono cordialissimi e rimango a disposizione per impegni più circoscritti. Ma chi prenderà il suo posto ai fatti vostri? Secondo in beni informati, Roberta Murise sarebbe già pronta a fare il suo esordio nel programma di Michele Guardi. Sul nome della sciogherla calabrese ci sarebbe l'accordo di tutti, la mora di Ciro Marina piace sia al direttore di rete che al regista e autore della popolare trasmissione. E mentre non resta che attendere l'ufficialità, alla bella Roberta non mancano certo gli impegni e le proposte televisive. Dal prossimo 18 giugno lo vedremo infatti nel programma di Sky Art e sei un paese meraviglioso al fianco del comico Dario Vergassola.